Dalla A di abiti che vanno nei contenitori per indumenti usati alla Z di zoccoli che vanno conferiti all'isola ecologica. L'assessorata all'ambiente del comune di Nocere Inferiore ha pubblicato un vadimecum su come smaltire le varie tipologie di rifiuti. Il dizionario compilato dall'assessore Francesco Scarfò è molto minuzioso. Sono 385 le voci citate. Diversi riferimenti per il conferimento si va dal deposito come da calendario del porta a porta a quello nelle campane di vetro o nei contenitori per pile o farmaci. Fino alla consegna diretta all'isola ecologica di Fosso Imperatore a quella mobile ma anche al contatto di ditte specializzate. Il dizionario chiarisce anche le idee su alcune tipologie di materiale ancora molto confuse. Alla lettera C si trovano per esempio i cartoni della pizza. Francesco Scarfò indica che vanno smaltiti separando la parte sporca da quella pulita. La prima va tagliuzzata e messa nella busta dell'umido. Quella pulita invece messa nella carta. Le cassette audio e i cd-rom così come la ceramica vanno nel secco indifferenziato. Il cellofan nel multimateriale. Le chiavi e i coltelli nel multimateriale così come le altre posate di acciaio. I contenitori vuoti di plastica dei profumi vanno invece nel multimateriale, quelli di vetro nelle campane verdi. Il rasoio usa e getta anch'esso va nel multimateriale così come le reti di plastica per frutta e verdura, i rullini fotografici vuoti e le reggette per la legatura dei pacchi. La rafia invece va nell'umido e le radiografie nel secco indifferenziato. Le salviette sporche vanno nell'umido mentre gli shoppers di plastica nel multimateriale così come i sacchetti di carta con interno plastificato e i sacchetti dei biscotti. Il tetrapark può andare sia nella carta che nella plastica multimateriale. I truccioli di legno invece vanno nell'umido e i taglieri vanno consegnati direttamente all'isola ecologica fissa o a quella mobile così come le varie tipologie di tubi, quelli al neon, quelli di ferro o alluminio, quelli di gomma. C'è anche una voce per la Ypsilon con lo yo-yo che va conferito nel multimateriale. Un'idea utile e simpatica. Ogni famiglia dovrebbe conservare il dizionario per la corretta differenziata. In questo modo si assottiglierebbe ancora di più la produzione di rifiuti secchi favorendo la raccolta differenziata e il riciclo e generando benefici dal punto di vista ambientale ed economico. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Nocera Inferiore all'indirizzo www.comune.nocera-inferiore.sa.it